Questo è un evento di altissimo livello artistico, lo attendeva tutta la città e abbiamo interpretato questo sentimento e chiesto ad Alberto di donare questo concerto alla città. Lo abbiamo proposto all'amministrazione comunale, la quale si è data immediatamente disponibile. Pertanto domenica 17 aprile alle ore 19.30 al Teatro Eschilo avremo la possibilità di godere veramente di una grande esecuzione pianistica. Verrà eseguito un programma di alto livello. Ci tengo a precisare che la finalità dell'evento è solidaristica. Infatti abbiamo individuato insieme al main sponsor di Geronimo una scuola di un quartiere di periferia, l'istituto del quartiere Albani-Roccella, dove si svolgerà un progetto denominato Progetto Music Club intitolato a Giovanni di Geronimo, musicista che tutti voi conoscete, che ha svolto questa attività di vendita di strumenti musicali nella nostra città per tantissimi anni. E quindi i giovinetti hanno l'opportunità in quel quartiere, dove non vi sono delle realtà aggregative, se non la scuola, nelle attività pomeridiane di avvicinarsi alla musica, perché verranno donati strumenti musicali, materiale didattico e tutto ciò che necessita per mettere in piedi un progetto di laboratorio musicale. Il maestro Alberto Ferro è tra i finalisti di uno dei più importanti concorsi pianistici al mondo, il Queen Elizabeth che si svolge al Bruxelles, che in Europa è secondo solo allo Chopin di Varsavia. Il maestro eseguirà il repertorio richiesto in quel concorso, che è un repertorio molto bello, ma di difficile esecuzione. Gli autori eseguiti saranno Chopin, Liss, Rachmaninoff e Shostakovich. Un'occasione importante per far conoscere ai cittadini di Gela un loro paesano che si è distinto nel mondo, un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale e che avremo il modo di apprezzare tutti. Credo che sia un riconoscimento dovuto a chi porta alto il nome di Gela nel mondo. Quest'evento è legato a portare avanti la cultura della musica nella nostra città. Infatti insieme alla direttrice marchiciana della scuola di Albani-Roccella verrà sviluppato un progetto per consentire oltre all'orario scolastico ai ragazzi di poter apprendere l'arte della musica con gli strumenti che verranno donati con i soldi che verranno raccoltati a questa manifestazione.